Aspiag Service SRL, società della spara Austria, nasce nel 1991. In Italia opera in Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, ma è presente anche in Slovenia, Croazia e Ungheria. Comprende 234 punti vendita e 339 affiliati e per il 2019 sono previste altre 25 aperture. Nel 2017 Aspiag ha fatto registrare 2,15 miliardi di euro di fatturato il 5% in più rispetto a quello fatto registrare nel 2016. Al 31 dicembre 2017 poteva contare su 7.714 dipendenti, di cui 3.445 in Veneto. Il personale è costituito dal 65% di donne. Tra tutti i lavoratori di Aspiag l'80% sono assunti a tempo indeterminato. Ogni dipendente in media viene sottoposto ad oltre 11 ore di formazione per un totale di quasi 87.000 ore e per un costo totale di 1.900.000 euro. I punti vendita Aspiag sono divisi in tre insegne in base alla superficie di vendita e all'assortimento dell'offerta, dal supermercato di quartiere a quello di più ampie dimensioni. Nei punti vendita Aspiag ogni giorno entrano 210.000 persone, tante quante la popolazione dell'intera città di Padova. Per il 2019 la previsione è di investire oltre 179 milioni di euro tra nuove aperture, ristrutturazioni e altri investimenti.